Dopo due anni di emergenza pandemica, Oro Arezzo finalmente torna in presenza. Dal 7 al 10 maggio, nei padiglioni di Arezzo Fiere Congressi, tornerà così la manifestazione dedicata alle eccellenze italiane ed internazionali dell'oreficeria organizzata da IEG. Oro Arezzo, giunta alla sua 41esima edizione, offrirà come sempre un quadro completo del settore, dall'oreficeria alla tecnologia, sino all'area dedicata al pronto vendita. Non mancherà poi lo spazio cash and carry, rivolto in particolare ai retail italiani e stranieri, dove acquistare una varietà di prodotti utili al riassortimento stagionale. Tornerà dal vivo anche lo storico concorso premier, che elegge la miglior manifattura orafa italiana per design, abilità produttive e creative. Oro Arezzo consolida anche la partnership con il Ministero degli Affari Esteri e l'Agenzia per la promozione dell'export, attraverso il programma di incoming rivolto ai buyers dei principali mercati di riferimento, quali Stati Uniti, Emirati Arabi ed Asia. Sul settore, peraltro, incombe la nube nera della guerra in Ucraina. Secondo i dati dell'Agenzia per la promozione dell'export, l'Italia esporta verso la Russia gioielli per circa 77 milioni di euro, un mercato che oggi è ovviamente completamente bloccato.